Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Stavo giochicchiando prima di registrare tale videozzo E nulla, godiamoci questa clip notturna Non guardate il primo hit, eh? Non lo guardate No, cancella, ca... No, no, quello non sono io ragazzi, no, no Devo ammettere che tutto ciò mi ha arrecato un po' di dispiacere Eh, lo ammetto ragazzi, però... Ti saluto broda È sempre una goduria, è sempre una goduria Vuoi o non vuoi, Fort Nightmares è l'evento più atteso dell'anno Ovviamente dopo il capanno di mezz'inverno, sia chiaro Ma solo a me fa un certo effetto rivedere tali clip Madò raga, è passato così tanto tempo Il primo Fort Nightmares 2018 Peccato, e dico mega 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 peccato Non aver assistito al drop di tutte le skin del 2017 Halloween 2017, devo dire la verità, me lo son perso In pochissimi ricorderanno un menu delle sfide uguale a questo E sì, sono davvero nostalgico quest'oggi Ricordo ancora quando ho sbloccato questo bellissimo delta plano È soprattutto la prima volta che droppai sull'isola con tutta quella nebbia Ed i primi zombie assieme a tutti i loro spawn Vabbè raga, ricordi Adesso però basta chiacchiere Abbiamo qualcosa che riguardi questo 2022 Vole qualcosina in pentola Assolutamente sì E ne sto parlando da quest'estate Con il primo call out delle mappe in creativa Che riguardano appunto il tema Halloween Però raga, domani 16 ottobre finalmente Usciranno all'interno del negozio oggetti Codigo Martex e la tienda di Fortnite Le prime skin a tema Halloween E sono le vincitrici dei sondaggi Sì raga, han vinto loro Diamo il benvenuto ad occhiata a sinistra La mia preferita in assoluto Tra le due skin che verranno presto droppate E poi Tormento Immortale Qui non si vede raga Ma a breve vedremo un'altra immagine Che riguarda appunto queste due skin Ma la parte centrale ragazzi È totalmente assente Lo so, non mi son spiegato Tenetevi pronti perché Fortnite Mers quest'anno Arriverà martedì prossimo E quindi il 18 ottobre Ragazzi miei prepariamoci Ad un aggiornamento super succoso E si spera anche Bello pesante Pieno di file Con cose da scoprire Vi aspetto ragazzi Non mancate Possiamo ammirare Tormento Immortale Da una prospettiva diversa Da quella precedente E si come vi dicevo ragazzi miei Osservatela bene Tra l'altro tre occhi Lì abbiamo la manina Ragazzi non vedo l'ora Di beccarla in game E scoprire come si presenti Davvero sarà strano E di shottare una mano Ma avrete sicuramente Cliccato su questo video Per le gallinacce Le gallinacce brutte brutte Ragazzi miei zombie È vero È confermato E soprattutto Lo sapevamo già da tempo Nel senso Era stata modificata Nei file di gioco Una voce che riguardava Queste galline E sul fatto che potessero Diventare zombie Al che mi chiedo Saranno gli unici animali Presenti sulla mappa Ad essere Zombificati Cosa molto importante Da notare È la loro posa A mo' di zombie Ragazzi Cioè seriamente Le vedremo camminare In questa ma... No dai State scherzando Donato dai Vi svelo un segreto Il deltaplano Che sto per schierare Viene utilizzato Una sola volta L'anno Da parte mia Non sto scherzando Ragazzi È meraviglioso Non è pure il tempo Di assaporarlo E vabbè Cerchiamo una gallina Ragazzi miei Per l'ultima volta Guardiamola Osserviamola Gustiamocela Eccola La sentola 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 La sentola Carmenzita Vieni qui Vieni qui Carmenzita Non ti voglio far nulla Carmenzita Se mi fa la cavalcata Delle valchiri Adesso Vado subito Nello shop giornaliero Dobbiamo solo Svolazzare un po' di più Proviamoci No C'eri quasi Ti amo Pochissimi secondi Al suo refresh Come sempre Vi ricordo Il bel codico Martex E la tienda De Forte Un grazie infinito A tutti quanti voi Che lo refreshate Ogni 14 giorni Ragazzi Riaggiornatelo Riaggiornatelo Ci siamo Comunque si ragazzi Tornando a fortnight Mers 2022 Per il momento Non conosciamo Che tipo di evento Potrà esserci In game Sto parlando proprio Di evento A livello di sfide Da completare E ricompense Chissà quanti oggetti A tema Halloween Riusciremo a portarci All'interno dell'armadietto Vediamo Rotellina E si va Ok Un'altra Imozzeridicone Non perché non voglia Ma posso farla Ascoltare davvero Per pochissimi secondi Perché ragazzi miei Altrimenti ho problemi Col copyright Eccetera eccetera Senti il flusso Da 500 V-Bucks Ah Wow Guardate come reagisce Tra l'altro Tocotocotò È il richiamo Della gallina Ma morta fiamma Che regisce E balletti Non lo sapevo Che figata Ma serio Non sapevo Sta roba LOL Ehi 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 Bellissimo Fantastico Quindi Due serie di coni In due giorni diversi Fantastico Una dopo l'altra Le stanno droppando Tutte 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 A livello di skin Qui abbiamo Scheletara La renegade rider Adora Che bellissima questa Da 1200 V-Bucks Chi se lo aspettava Questo prezzo L'anno scorso Boccaccia Scoperta Per la prima volta Se non erro Nel 2019 Si 2019 Jet Abbiamo Bubusette Dejoy Tenero difensor Vedete Ragazzi Non a caso Ma vi rendete conto Queste sono delle call Raga Queste sono delle call Che ci fanno tramite lo shop No ma Scherziamo Donatino Baba Yaga E va bene Va bene Ragazzi Non abbiamo Non abbiamo più Nulla Nient'altro Da mostrare Noi ci becchiamo In un prossimo Video mattutino Sperando che questo Sia stato di vostro Gradimento Mi raccomando Un bel pollicione All'in su Da parte vostra Ed un'iscrizione Cliccando qua sotto Su il bottoncino rossa E quindi il tasto Iscriviti A prestissimo Ragazzi miei Ogni giorno Qua sul canale Alle 7 del mattino Un saluto Da Martex E come al solito Sia BROTHERS